Qual è la sindrome della vescica dolorosa? La sindrome della vescica dolorosa è un disturbo cronico che coinvolge l'infiammazione e il gonfiore del rivestimento interno del tessuto vescicale. Le persone che hanno la condizione di solito avvertono frequenti impulsi di urinare costanti dolori addominali inferiori. A differenza della maggior parte dei problemi del tratto urinario, la sindrome della vescica dolorosa non sembra essere causata da un'infezione. Attualmente non esiste una cura chiara per la sindrome, ma molti pazienti rispondono bene ai farmaci antinfiammatori orali e alle tecniche chirurgiche minimamente invasive per stimolare il miglior funzionamento della vescica. Le cause della sindrome della vescica dolorosa non sono note. I sintomi della malattia sono simili a quelli delle comuni infezioni del tratto urinario, ma i pazienti esaminati non mostrano segni di infestazioni batteriche, fungine o virali. Molti medici ritengono che la sindrome sia un segno di una malattia autoimmune di base che causa una risposta infiammatoria nelle pareti della vescica, sebbene la ricerca corrente non sia in grado di supportare la teoria in tutti i casi. Alcuni pazienti hanno una storia familiare della sindrome, suggerendo che un fattore genetico ereditario può contribuire al disturbo. Sindrome della vescica dolorosa si verifica quando il rivestimento protettivo del tessuto sulle pareti della vescica diventa infiammato e danneggiato. Quando la vescica è irritata, di solito provoca dolore pelvico cronico e fa sentire una persona come se avesse bisogno di urinare molto frequentemente. Solo una piccola quantità di urina viene prodotta ogni volta che una persona va in bagno, nonostante gli impulsi opprimenti e un senso di pienezza nella vescica. Le condizioni sono molto più frequenti nelle donne che negli uomini, e i pazienti di età compresa tra 20 e 40 sono colpiti più spesso di qualsiasi altro gruppo di età. Può essere difficile per i medici fare una diagnosi chiara della sindrome della vescica dolorosa. In molti casi, una diagnosi viene fatta dopo che sono state escluse tutte le altre possibili spiegazioni per i sintomi. Sangue, urine e campioni di muco sono testati per cercare segni di infezione e problemi autoimmuni. Spesso viene eseguito un esame fisico delle vie urinarie con l'ausilio di un endoscopio per rilevare la posizione e la gravità dell'infiammazione. Scansioni di imaging e una biopsia della vescica possono anche essere necessarie per escludere la possibilità di cancro alla vescica. Le decisioni terapeutiche vengono prese in base ai sintomi specifici di un paziente. I medici prescrivono spesso antidolorifici e farmaci antinfiammatori e incoraggiano i pazienti ad abbassare i loro livelli di stress per aiutare con i sintomi. Un farmaco chiamato pentosan può anche essere prescritto per aiutare a riparare i danni alle pareti della vescica e prevenire attacchi futuri di grave infiammazione. Se la terapia medica fallisce, un piccolo dispositivo elettrico può essere impiantato nella parte posteriore per aiutare a regolare gli impulsi nervosi nella vescica. La ricerca in corso spera di scoprire una cura permanente ed efficace per la sindrome nel prossimo futuro.